Ah, io te lo dico, sto registrando, così vediamo cosa salta fuori. Sto registrando che roba? La nostra sessione di gioco. Non so, tanto valeva registrare dopo se succedeva qualcosa. No, volevo provare a vedere se... Cioè, come si sente, come si vede, cosa va. Allora, mettiamo su... La bandiera. Allora, F. Cos'è che siamo noi, l'alleanza? Oh, quella dei cercatori d'oro, penso. Ma cazzo, ma non ce l'abbiamo, la bandiera? Sì, è già su. Ma è già su? L'abbiamo votata prima. Ah sì? Quindi non posso mettere su un tipo la bandiera, quella degli omosessuali. Sì, ma sono due bandiere diverse. Ah, perfetto, buono, perfetto. Ecco la piccola, ecco la piccola gialla. Non mi sa che l'isola è questa, però stiamo andando oltre. Aspetta che te lo dico, vado giù la mappa. Sì, è quella lì. No, però è stata andata dal lato giusto, secondo me. Questa sì, perché ho sterzato tutto prima di andare a vedere. No, 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 io sarei andato all'altra parte perché mi sembra che ci siano le baie belle di da. Eh no, ma dobbiamo andare di qui. Il tesoro è su questo lato. Ah, cazzo. Eh, però bisogna stare attenti perché non sembra esserci una grande spiaggia. Ma soprattutto non ci sarà casino. Crooked Hollow. Altro. Ah, figa, tra l'altro è su un sacco il tesoro. Bisognerà trovare una strada per arrivarci. Ah no, non credo. Per me c'è la spianata qui in parte. Dici che è tutto alto. Mi dà l'impressione di sì. Perché è proprio nel punto più in alto. Ah, guarda qua. Secondo me, dobbiamo andare. Oh, può essere, ma qua c'è una spiaggia, quindi. Cazzo, guarda che bella, anche la... La scatiglia. Comunque a registrare, mi è passato a 30 fps. Ma toh, ci sta. No, no, ma proprio... Possiamo anche fermarci. 30 fps loccati. Tran, però. No, è tornato a 60. Va un po' ballerino. Per il Lucicango è qualcosa. Oppure? Oh, c'è un serpente. Eh, ho anche un teschio qua. Un teschio, un tesoro. Ti direi che forse conviene portare su direttamente quella roba qua. Cassa di stoccaggio. Porto su io questo, intanto? Tu vuoi cercare il tesoro? Ah, io lo sto portando su il teschio, veramente. Ah, ok. Da degli svaponi oggi, lo spero. Sì, a me va alcuni momenti a 60 fps, altri dove cala 30 a caso, proprio. Ah, ma la cassa di stoccaggio è quella, è inutile portarla su. No, quella infatti non l'ho neanche cagata, però sì, è quella per metter dentro la roba. Allora, bisogna salire. Secondo me, da di qua bisogna salire. No, secondo me è qua sotto. Sì, no. Da qualche parte, secondo me. Secondo me è il punto più in alto di là, invece. E' a sud. Allora. Ci sono un sacco di galline qua, eh, se vogliamo. C'è una stradina che potrebbe essere quella lì, quindi il tesoro per me è qui. E poi. Eh no, Roby è nel punto più alto. Infatti qua ci sono gli scheletri sui soldati fuori. Ah, qui c'è la spiaggia, quella. Ah, però potrebbe essere la spiaggia questa qua sotto. Guarda che secondo me bisogna andare a sud, Roby. Infatti mi sono salati fuori un sacco di teschi. Oh, ho trovato anche delle sette esatte. Quasi quasi conviene fare le prime due e poi andare a un avamposto, perché siamo già pieni. Allora, Roby, io sono quasi morto. Tanto per dirne una. Per importarti del cibo. Eh, hai ragione. Fantastico. Comunque secondo me è colpa tua che stai registrando che swappo una cifra, perché sei tu lost. Magari provo a fermare la cosa, giusto per vedere se miglioriamo. Swappando una cifra non è mai successo. Dai. Interrompo la registrazione.